il treno regionale 52 20 di treno nord proveniente da cremona e diretto a brescia delle ore 5 e 54 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a bagnolo nella san zeno folzano il treno regionale 52 21 di treno nord proveniente da brescia e diretto a cremona delle ore 5 e 59 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a vero la nuova robecco pontevico olmenet il treno regionale veloce 2201 di trenitalia proveniente da bergamo e diretto a pisa centrale delle ore 7 e 59 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a verla nuova cremona castelvetro bussetto fidenza fornovo borgo dal di taro pontremoli villa franca bagnone aula lunigiana santo stefano di magra sarzana carrara avenza massa centro forte dei marmi serravezza querceta pietra santa via reggio pisa san rossore il treno regionale veloce 2202 di trenitalia proveniente da pisa centrale e diretto a bergamo delle ore 21 e 56 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a brescia rovato palazzolo sull'olio grumello del monte